...logorata per chi antepone le proprie ambizioni personali al bene del Paese. E comunque, lo dico ai miei colleghi, io non voglio essere tra questi. Per cui io chiedo a tutti i colleghi al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell'ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere al Presidente della Repubblica, Mattarella, la disponibilità a continuare il suo mandato nell'interesse dell'Italia. Credo che ne vada della dignità e del decoro delle istituzioni. Se il Parlamento non è in grado di decidere, non può contribuire alla sua delegittimazione continuando una serie di inutili votazioni. Spero che oggi pomeriggio potremo confermare il Presidente Mattarella, a cui chiediamo questo supplemento di responsabilità. Credo che per lui anche sarà un prezzo molto alto da pagare, ma glielo chiediamo nell'interesse del Paese. Io vi ringrazio molto. Naturalmente non vado in vacanza perché continuerò a lavorare nel Parlamento. Grazie, grazie mille.